Un paio da anni a questa parte abbiamo iniziato con forza a spingere sugli investimenti, sulla riqualificazione delle macchine, sulla possibilità di avere dei servizi di qualità collegati digitalmente a quello che è la rete, in modo che l'esame che viene fatto in qualunque punto della regione sia poi disponibile un domani nel fascicolo elettronico di ogni singolo utente. Un servizio che è fatto di sempre maggior qualità grazie agli investimenti. Investimenti che l'anno scorso hanno avuto una cifra straordinaria di 200 milioni che si stanno trasformando mano a mano in realizzazioni e stiamo coprendo un po' tutti i territori e tutto il territorio. In caso specifico l'ortomatomografo riqualifica tutti quelli che sono gli esami diagnostici per la bocca, permettendo una qualità notevole per dare sicurezza al cittadino quando si rivolge alle nostre strutture. È un piccolo segno di grande attenzione e una giornata tutta speciale qui a Camerino. Evviva!